benvenuti in questo nuovo video ragazzi oggi primo run con golden hills chapter di arezzo adesso siamo a metà strada con me è venuta la mia ragazza e disperata di già dopo solo 120 chilometri già disperata ragazzi voglio morire comunque ragazzi manca un'ora ancora mi raccomando iscrivetevi al canale ci vediamo direttamente al run al portofino chapter e vai ragazzi iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale intanto stanno arrivando tutte le moto tra un po' arrivano anche gli amici di golden hills che ci danno le braccia leppi per entrare dentro l'evento come ragazza è continuato allora ragazzi qui abbiamo il rego che ha organizzato tutto che poi ci farà fare il run che giro facciamo facciamo da massa si fa massa le cave di marmo acquane a betone si riscende dalla betone per tornare poi a casa mi raccomando stasera birra a fiume come sempre birra a fiume a volontà col braccialetto a gugo senza no limits lei è sempre molto felice non so questo rituale cosa vuol dire però è stato molto bello ma cazzo capito per Roma ce l'ha messo 500 io pensavo almeno un paio d'euro siamo i migliori ma cazzo capito per ora ma cazzo capito per ora una situazione ragazze dopo l'evento di ieri sera vediamo un po' allora Jessica che ne cosa le pensi della serata di sera dopo il ballo che hai fatto un gran flop un gran flop vedi, guarda quanto se ne va la sorella se ne va perchè non come comunque dai vi siete divertiti molto, ci siamo divertiti anche se poi si è trovato l'accoglienza della balera locale perfetto e ti invece? devo commentare per forza? si dai commenta sono divertita alla grande, ci fa una finestra bellissima e li farò subiti su si va al fucker buongiorno ma alla fine dove hai dormito stanotte? in terrazza fino alle 2 in terrazza fino alle 2 poi si stava avvicinando un temporale e sono rientrato ma non era il temporale cos'è? era il boss perché il boss chi ha fatto? sono invidiosi un anno un motore come il mio sotto il primo istinto era quello di prendere il cuscino e soffocarlo poi dico ma cazzo la moto chi me la riporta a casa? è una morte lenta poi dico è una morte lenta la prossima volta la prossima volta porto la carabina colpo secco tu hai dormito a terrazza? eh lo hai detto no stamattina ho chiamato i carabinieri per spogliare con la denuncia buongiorno suonare 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 Grazie. 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 Vieni via. Chi è voi? Oh, io te lo dico, sono tutte separate, porta a mano. Non è vero. Ora fate un passo indietro. Aspetta ferme che lo faccio, l'ho fatto col suo. No, è una cosa lunga, capito? Vai velocino, su. Vai. Evviva la sposa! Grazie, grazie. Grazie. Auguri. Ragazzi allora il video è qui è finito. Quindi un saluto a tutti da... Guadaluigi! Guadaluigi!